La Costituzione della Materia Cerchio Ifior Scifo Eccoci di nuovo a parlare ancora della Costituzione della Materia. A che scopo parlare ancora della materia e della sua Costituzione? Allo scopo di farvi comprendere con un esempio, nel miglior modo possibile, una volta per tutte, dove sono situati i vari piani di esistenza, affinché, quando vi diciamo dei piani spirituali, voi non guardiate in su, o del piano astrale, voi non guardiate in giù e via e via e via. Prendiamo per fare questo degli esempi che tenete presente però sono soltanto delle rappresentazioni logiche, simboliche, figurative, usate più che altro per farvi comprendere. Consideriamo un atomo di idrogeno. Voi siete tutti più o meno scienziati, quindi vediamo chi si sente di spiegarmi come è composto un atomo di idrogeno. Domanda Un atomo di idrogeno è formato da un protone e da un elettrone. Scifo Nessun'altra teoria più moderna e più avanzata. Domanda Secondo il libro di chimica, che ricordo io, della preistoria. Scifo Vergogna In fondo l'idrogeno è un po' anche la base della vostra possibilità di esistenza. Comunque, semplifichiamo la cosa al massimo. Consideriamo l'atomo di idrogeno come composto semplicemente da un nucleo e da un elettrone che gravita intorno a questo nucleo. Ora, se voi foste così piccoli da poter stare in piedi sul nucleo dell'idrogeno, guardando in alto, vedreste una luna che periodicamente vi passa sopra la testa. Potremmo dire, come è stato detto anche da scienziati o semplicemente da persone che si abbandonano alla fantasia, che in realtà il sistema costituito da un nucleo ed un elettrone è un po' un analogo del sistema solare in cui il nucleo può essere paragonato al sole e l'elettrone alla terra che orbita intorno ad esso. Questo più che altro per farvi comprendere che la distanza tra nucleo ed elettrone e dell'idrogeno, paragonata all'infinitamente piccolo, è assimilabile alla distanza astronomica che vi è tra il sole e la terra. Quindi una distanza enorme, non piccola come quella che si osserva dal vostro punto di vista, ossia attraverso i vostri sensi percettivi, i quali, guardando dell'acqua o del ghiaccio, vedono la materia come se fosse unita e quindi senza spazio in mezzo. Ora, cosa c'entra tutto questo con gli altri piani di esistenza? Noi avevamo detto che la materia del piano fisico è costituita da materia che si può suddividere in altra materia secondo varie suddivisioni fino ad arrivare alla materia più piccola l'unità elementare del piano fisico la quale non è più suddivisibile o meglio ancora spezzando in due un'unità elementare del piano fisico che, ripeto, è la materia più sottile del piano fisico non si ottengono due pezzi di materia del piano fisico che cosa si ottiene? Si ottengono semplicemente due parti di aggregazione di materia più densa di quello che è il piano immediatamente successivo ovvero la materia astrale fino a qua ci siamo, penso perché abbiamo ripetuto questi concetti più di una volta Ora, considerando che l'unità elementare del piano fisico sta all'atomo di idrogeno così come il corpo di un essere umano può stare all'intero sistema solare ci si può rendere conto della differenza che esiste tra la grossezza della materia astrale e la grossezza della materia fisica là dove stanno due atomi di idrogeno sta un'infinità di materia astrale e questa materia non è né sopra né sotto né a destra né a sinistra dell'atomo di idrogeno esiste invece in quello spazio tra elettrone e protone tra elettrone e nucleo che noi avevamo considerato all'inizio invece siccome esistono densità diverse la materia è presente non soltanto in quello spazio apparentemente vuoto ma è presente anche all'interno degli spazi che esistono in realtà anche nell'elettrone anche nel nucleo quindi la materia astrale non è situata in nessun punto strano del conosciuto della realtà dell'universo ma è semplicemente interna facente parte della stessa materia fisica ora è ovvio che avendo noi detto in precedenza che non esiste soltanto l'unità materiale del piano fisico ma anche l'unità materiale del piano astrale del piano mentale del piano acasico e via e via e via il discorso si può ripetere praticamente uguale anche per tutte le altre materie che compongono la realtà arrivando a quello che ipoteticamente consideriamo un analogo dell'atomo di idrogeno fisico chiamiamolo ad esempio atomo di idrogeno astrale anche questo in realtà avrà degli enormi spazi vuoti in rapporto alle dimensioni della materia mentale la quale occuperà questi spazi vuoti secondo diverse densità lo stesso accadrà poi per la materia acasica o della coscienza e via dicendo quindi tutta la realtà si compenetra tutti i vari corpi e i vari piani di esistenza si compenetrano riducendosi le dimensioni delle unità materiali fino a un limite di frantumazione tale che difficilmente potreste arrivare a comprendere questo può portare ad una conseguenza logica o forse filosofica in quanto con gli strumenti fisici è assolutamente non dimostrabile di una certa importanza pensate se già arrivando solo alla materia del piano astrale si comprende quanta diversità di grandezza vi sia tra la materia astrale e la materia fisica pensate come deve essere sottile la materia nel sesto piano di esistenza il rapporto a quella che è la materia fisica riuscite a comprendere l'enormità della sua finezza e se in realtà tutti i piani compenetrano i vuoti presenti nel piano precedente considerate come la materia del settimo piano quella più sottile sia presente in enormi quantità all'interno di tutta la materia fisica riuscite a comprendere anche questo e se riuscite a comprendere questo qual è il passo successivo se non comprendere che Dio che è la materia più sottile di tutte in realtà compenetra veramente tutto il creato proprio attraverso questa formazione del creato stesso ma su questo parleremo senza dubbio ancora in seguito perché è una conseguenza logica non indifferente di l'anima di l'anima Grazie per la visione!